Una donna di 99 anni è morta mentre si trovava in casa a Cenadi in provincia di Catanzaro. Secondo i primi accertamenti, la donna, mentre si trovava da sola all'interno dell'appartamento di proprietà della nipote, è deceduta per cause accidentali in seguito alle ustioni provocate con ogni probabilità da qualche fiamma o scintilla che dal caminetto potrebbe essere finita sui suoi vestiti, finendo per avvilupparla senza lasciarle scampo. A trovare il corpo ormai senza vita dell'anziana è stata la stessa nipote una volta rientrata in casa. Sul posto i carabinieri di San Vito sullo Ionio e della compagnia di Soverato, che hanno eseguito diversi accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, l'abitazione è stata sequestrata mentre la salma della 99enne sarà sottoposta ad esame autoptico.